Dal maggior secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Quando sentirete di guerre e di sconvolgimenti non vi scomentate Deve infatti prima accadere questo ma non è subito la fine Poi diceva loro Insorgerà popolo contro popolo regno contro regno Vi saranno grandi terremoti che qua è l'arte, silenze e carestie fenomeni spaventosi e dal cielo grandi segni verano Ma prima di tutto questo vi metteranno addosso le mani e vi perseguiteranno vi traduranno dinanzi alle sinagoge e nelle prigioni vi drascineranno davanti a Re e governatori a causa del mio nome Così avrete occasione di darmi testimonianza Ponetevi dunque in mente di non preparare la vostra difesa vi darò io lingua e sapienza alle quali nessuno dei vostri nemici potrà resistere Nei contrattivi Sarete traditi perfino dai genitori da fratelli, parenti ed amici e tra voi vi saranno degli uccisi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma non un capello del vostro capo perinale Salverete le vostre anime con la vostra costanza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti